Salve a tutti ragazzi e bentornati nel settimo episodio di Hearthstone E siamo qui su Naxxramas per fare le sfide di classe del cacciatore e del mago Ok, iniziamo col cacciatore o col mago? Iniziamo col cacciatore Si parte Molliamo le melme Mescoliamo i veleni E si può partire, dai Vogliamo ancora quelle spore che sono spettacolari No dai Che cosa è sta roba? Cambiamone una Eh Ma seriamente No, 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 questo è un troll È un troll No, adesso ho rage quinto Cos'è sta cosa? Ho un'invasione di ragni? Di tessitela e basta Oddio Uccidiamolo Si Ma no dai Vediamo un po', ne uccidiamo uno Oh Remukla Uccidiamo un altro Ah, coda impetuosa Allora ci sono le carte Uccidiamo un altro E Ah 1-4 taunt Va bene Fini turno E noi ne abbiamo solo tessitela Cioè Mi sento indisposto Si Ok Io ho iniziato ad avere sospetti su sto deck Si Tanti sospetti Troppi sospetti Troppi sospetti Infiniti sospetti Ehm Uccidiamola Vediamo Che mostricità Un silence E Un cinghiale con carica Che non posso giocare E invece giocherò Poi lui E lui Ehm Non c'è una bestia che cura eh No No E non giocare alle spore Dai Una spora Allora vediamo un po' Evocchiamolo Distrugge Il nero destriero Un altro Tessitela E due danni Wow A colpi di 1-1 Un fischio Il nero servitore Evoca una spora Grande E adesso E adesso Parte il rimantone Parte parte Dove va? Dove va? Allora evochiamo Tutti i tesitela Remukla Attacchiamo E adesso E adesso Parto Il danno Stupido No Che tra l'altro Quanto costa Costa 1? No Tu non puoi copiarmi Tu non puoi copiarlo Valedetto La iena Il cinghiale Questa è una bestia No Il raptor Il tessitela Attacchiamo Lui Più 8 danni a tutti 21 danni Oddio Infiniti danni No No Dai avevo 21 danni Dai E dai Allora Cosa fare adesso? No La bestia Si fotte Siamo qui a 3 6 1 7 2 danni 4 Ok L'eroe 10 10 10 E la sfida di classe Del Del Lanter Del cacciatore È vinta Ora dobbiamo fare La sfida di classe Un tessitela Ma dai Non l'avrei mai detto Dobbiamo fare la sfida di classe Del mago E quindi Siamo pieni di duplicazioni No dai Mi sembra una cosa stupida Infatti lo è Ok Ah buona Buona mano Si Questo mi piace Quando hai segreti Continua a prendere P2P2 Sputafango pure Però All'inizio Del Inizio game Non è fortissimo La morte Il mio Vale quotidiano Ballate Stolti Ah Ah Ecco Dai Distruggilo Stronzo Fallo Tu lo fai adesso Tu adesso lo fai No eh Ok Non farlo Mi farà piacere Vederti Non farlo Ho detto Non farlo Beh Metto un segreto Sperando che ci sia un altro Cazzo Mette In gioco Un segreto Dal tuo mazzo Dai Finito Ma quanto sei forte Perché mi hai chiamato No Ah buona Buona Poco dell'anima No Strano Speravo in un fuoco dell'anima Purtroppo Mi hai deluso No Devo metterlo a sinistra Però Non ricordo Che c'è sto Poterrò Che colpisce a sinistra No Questo non te la tacco più Basta Eh ma posso sapere Che potere Buono Ok Facciamo andando a lui Sette a lui E adesso Iniziamo a staccare Gli due Arcanisti Eh si No Perché non mi è partita Ah no È vero Non ho quella che copia Giusto Ho il fletti e magie Va bene Not bad Ok Mettiamo un taunt E vediamo quanto resiste Beh Resiste a due attacchi Visto che evocava un altro taunt Oh Forte questa Bella Non questa Però anche questa Dicevo questa io Queste I tuoi servitori attivano due volte Il loro run Wow 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 Quindi lui E devo mettere a sinistra Le carte Cribbio Eh abbiamo vinto Cliccato Ok adesso Dobbiamo passare solo là Alla versione Eroica Bene Ragazzi Anche le sfide di classe Del Mago E del Cacciatore Sono Completate E come al solito Se il video vi è piaciuto Mettete un mi piace Commentate Iscrivetevi al canale E ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti